Arte e Studio Gallery è nell'imminenza dell'inaugurazione di una nuova mostra, Prima Vere. Ne parliamo con il curatore artistico, che è il professore Mario Nanzione, e poi abbiamo con noi un artista e due critici d'arte. Questa rassegna Prima Vere, diciamo che si augura che possa essere la prima di altre che si girano negli anni. È di buon auspicio perché nasce con la Prima Vere e quindi noi abbiamo invitato cinque critici d'arte che vincono in Campania per segnalare tre artisti ognuno di loro, quindi cinque critici d'arte per quindici ovi per quindici artisti. Ma c'è da volentieri la parola del professore Rosario Pinto, critico d'arte che è il personaggio che ha segnalato agli artisti che potrà magari dire qualche cosa sulla mostra. Direi che la caratteristica saliente di questa mostra è quella di avere individuato in noi critici non lo snodo per mettere a fuoco semplicemente delle figure di artisti, cioè per fare semplicemente dei nomi, ma per tentare di fare qualche altra cosa e cioè per tentare di aprire delle finestre su degli aspetti particolari dell'arte contemporanea in maniera tale che l'arte contemporanea possa essere rappresentata, offerta ad un'analisi complessiva Grazie 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 Grazie